Torna per il sesto anno a Taranto la cena solidale La Voce dei Bambini che quest'anno con l'associazione La Casa di Sofia, un'altra realtà tarantina, finanzierà il progetto energizzante per il Natale Multicentrum. È dedicato ai bambini fragili della città, ammalati o diversamente abili. L'appuntamento il 17 dicembre all'hotel Salina. La cena è già sold out, 260 posti raccolti circa 10.000 euro, ma c'è la possibilità di continuare a donare attraverso un IBAN disponibile sulle pagine social del progetto. Non soltanto fondi da raccogliere o creare intrattenimento, il vostro obiettivo finale è una compagnia stabile di abili e diversamente abili che possa essere itinerante per sviluppare nuove autonomie. Dare la possibilità di svolgere attività circensi, attività teatrali, musicali per il recupero effettivo anche nel momento post scolastico.